Grazie, sono sempre contento quando mi si chiama a parlare, di solito mi si chiama a parlare di Russia, ma in questi mesi forse se ne è parlato anche troppo, quando mi si chiama a parlare di cose armene sono contento perché se ne parla sempre troppo o poco, a prescindere da come si valuti la crisi attuale tra Russia e Ucraina, tra Russia e mondo, ce n'è in corso un'altra praticamente senza che ci si pensi, la copertura politica e mediatica che è pressoché inesistente su quanto sta avvenendo tra Armenia e Azerbaijan, anche se devo dire che la settimana scorsa sono stato coinvolto in un'audizione alla Camera su questo tema perché c'è una mozione, si sta lavorando per una mozione del Parlamento su questa crisi tra Armenia e Azerbaijan, che non credo costituirà una pietra miliare nella soluzione del problema, ma però è un segnale per quanto limitato di attenzione da parte del nostro Paese. Io proverò a darvi delle indicazioni su un tema estremamente complicato, non incomprensibile, ma complicato perché come quasi tutte le crisi in corso non si può partire da ieri o dall'altro ieri, bisogna riandare un po' più indietro e quindi provare a fornire un minimo di contesto storico, perché parlare oggi della crisi tra Armenia e Azerbaijan per il Nagorno-Karabakh vuol dire molto semplicemente che due Paesi si contendono un territorio sul quale entrambi i paesi ritengono di avere diritti storici, culturali e politici. Il problema è che questi diritti storici, politici, culturali affondano le loro radici in un passato più o meno antico. Teoricamente le rivendicazioni armene su questo territorio, il territorio che noi chiamiamo Nagorno-Karabakh e gli armeni chiamano Arzakh e questo territorio qui. Questo stato che vedete disegnato è l'Armenia classica, l'Armenia antica, il regno di Armenia che è esistito tra mille vicissitudini, cambiamenti di frontiere, momenti di indipendenza e dipendenza da altri paesi all'incirca dal 300 a.C. sino grosso modo al 1050 d.C., quindi un periodo piuttosto lungo. Questa è l'Armenia storica con le sue regioni storiche. Il Karabakh anticamente, quando esistiva il regno dell'Armenia, si chiamava Arzakh. Dopo il crollo del regno dell'Armenia, questa è la stessa immagine senza le divisioni tra le varie regioni storiche e invece con inserita al suo interno la piccolissima Repubblica Armenia attuale, che come vedete è circa un decimo di quella storica. Questo è per farvi visualizzare la collocazione storica dal punto di vista armeno. Allora, l'antichità è a favore degli armeni, che rivendicano un loro diritto su questo territorio millenario. I contendenti, gli azerbaijani, sono discendenti turchi e musulmani dei turchi selgiuchidi che arrivano in queste regioni nell'undicesimo secolo d.C., quindi molto più tardi. ciò nonostante, nel momento in cui prima i selgiuchidi e poi altre popolazioni, in particolare i turchi ottomani e i turchi safavidi, che poi creeranno sia l'impero ottomano che anche l'impero persiano safavide, nato intorno al 1500 ma creato da una dinastia di origine turca, i safavidi, l'Armenia a quel punto non esisteva più. Era stata completamente spazzata via da questa serie di invasioni, prima i selgiuchidi, poi i mongoli, poi gli ottomani, i turcomani lasciando perdere altre tribù minori, safavidi e così via. Questa è una cartina che rispecchia la situazione di non esistenza dell'Armenia, ma neanche dell'Azerbejana, vedete? Cioè l'impero ottomano e l'impero safavidi, due grandi imperi musulmani, al cui interno la regione del Karabag la vedete evidenziata in verde a righe, evidenziata ma nel nulla, perché non era nulla, era una regione che non si chiama più col nome antico di armeno Arzakh, ma Karabag, parola turca perché la zona era stata ampiamente turchizzata linguisticamente. Gli armeni lì continuavano a parlare armeno, ma anche loro, a partire almeno dal XIII secolo, questa regione, l'antico Arzakh, lo chiamavano Karabag, che in turco vuol dire giardino nero. Si è molto parlato di quale fosse la situazione in questa regione a quell'epoca, era sicuramente complicata, c'era una predominante popolazione armena. Con alcune famiglie nobili avanzo dell'antica nobiltà armena era rimasto qualcosina, ma pensate che queste famiglie armeni avevano il titolo principesco di Melik, una parola araba poi passata al turco, quindi benché ci fossero ancora famiglie nobili armeni che esercitavano un limitato autogoverno, ma all'interno dell'impero persiano, il loro stesso nome, il loro stesso titolo Melik mostrava quanto forte fosse comunque l'influsso musulmano e turco in particolare. Stiamo comunque parlando di un territorio nel quale sino al 1750 non c'era nessuna indipendenza statale, nel quale vivevano sia armeni numericamente dominanti che popolazioni turche. Una di queste popolazioni turche nel 1750 riesce a creare un canato, canno vuol dire più o meno re, reuccio, crea un canato di Karabat ed è un canato turco al cui interno vivono comunque gli armeni, ma questo canato che peraltro non è indipendente perché comunque all'interno dell'impero Safavide è un canato turco. Adesso probabilmente vi sto un po' confondendo, ma l'impero persiano come anche l'impero ottomano erano stati anche forti, ma non molto accentrati, non c'era la possibilità di controllare veramente bene soprattutto le periferie. Alle periferie imperiali c'erano canati o tribù semi indipendenti. Il canato di Karabat ogni tanto pagava tributo allo Shah di Paes, ogni tanto non glielo pagava, ogni tanto gli Shah mandavano una spedizione punitiva per farsi pagare anche i tributi arretrati, insomma era una situazione classica di semi indipendenza. Armeni e turchi più o meno convivevano in quel territorio, senza particolari problemi. Gli armeni stavano più in alto, quando questa regione verrà individuata come Nagorno Karabag, Nagorno vuol dire di montagna, il territorio più in alto era abitato da armeni, agricoltori più in basso pascolavano nomadi turchi con le greci sostanzialmente. Ma c'era una coesistenza relativamente pacifica, relativamente, se poi si vanno a vedere le cronache, ci si sparava spesso e volentieri, ma non solo fra turchi e armeni, anche una casata nobile armena, pur una tribù turca contro un'altra, si viveva abbastanza bene, ma non in paradiso evidentemente. Cambia tutto quando nel 1800 arriva i russi. Aspettate, prima di far passare ai russi vi faccio vedere questa cartina che vi mostra due cose abbastanza interessanti. Questo è il canato di Karabag, all'interno ci sono alcuni nomi, cinque nomi, i nomi delle cinque casate principesche armene, i Melik, che sono sopravvissute anche la creazione del canato di Karabag, pagavano tributo al Can, quasi mai pagavano tributo allo Shah di Persi. Era una situazione che noi chiameremmo feudale o feudale tribale, insomma, però tutto questo avveniva all'interno dell'impero persiano. Faccio vedere, non so se abbiate qualche idea di come sia fatta l'architettura armena. Questo è il monastero principale del Karabag, si chiama Ganzasar, che vuol dire montagna del tesoro. Vedete, le chiese armene hanno una vaga aria di famiglia. Io credo che, anche se non vi avessi detto che questa è una chiesa, un monastero armeno, cioè cristiano, l'avreste capito, perché non hanno uno stile uguale al nostro. Forse lo stile, qui assomiglio di più, è romanico, ma insomma, a parte che c'è le cupole, credo che si possa facilmente riconoscere una chiesa armena, che io chiaramente la riconosco perché le ho visitate tutte, ci lavoro da 30 anni, ma insomma, credo si riconosca abbastanza facilmente. Questo è il principale monastero dove risiedeva il Catolicos, cioè il patriarca locale, che apparteneva anche lui a una famiglia nobile, da zio in nipote si trasmetteva il titolo di patriarca di Catolicos. C'era questo tipo di esistenza antichissima, molto tradizionale, che noi possiamo più o meno comprendere usando il termine feudale. Non è uguale al nostro feudalesimo, quello delle montagne caucasiche, ma è molto simile. Potere centrale, debole, forza della nobiltà, bellicosità della nobiltà, dell'accordo tra nobiltà e clero, corrisponde abbastanza il feudalesimo caucasico a quello dell'alto medioevo europeo, solo che nel caucus, incluso l'armena, questo feudalesimo è arrivato praticamente sino alla conquista russa. Se vi interessa, io con molta prudenza vi suggerisco la lettura di due volumi. Questa è la storia dei Melik del Karabag, di uno studioso armeno dell'Ottocento che ho tradotto in italiano ed è un racconto tutto sommato anche divertente delle faide interfamiliari, intertribali tra armeni, tra armeni e turchi, la nascita del canato del Karabag, che tra l'altro è facilitata da uno dei cinque Melik armeni che si allea col capo turco perché aveva litigato per una storia di donne con un altro Melik armeno. Insomma, combina un pasticcio mostruoso, infatti odiato dagli armeni come colui che ha chiamato i turchi nella regione e ha collaborato alla creazione di questo canazzo. È una storia abbastanza interessante, molto tipica, molto feudale, non solo armenia, avrebbe potuto essere la descrizione di tante vicende europee feudali per molti secoli. Meno gradevole la lettura di questo volume che invece ho scritto io in cerca di un regno, profezia, regalità e monarchia, una nobiltà e monarchia in Armenia fra 700 e 800, è una storia invece piuttosto complicata perché una delle ragioni di interesse di questa regione, il Karabag, è che è stato per riassumere un po' il Piemonte o la Prussia falliti. Nel settecento, diciottesimo secolo, i nobili armeni del Karabag hanno cercato l'aiuto russo per ricostituire il regno d'Armenia, per funzionare da Piemonte o da Prussia di un regno d'Armenia da ricostituire. I russi ci hanno anche pensato, è stata una cosa molto interessante che io descrivo con documenti vari, il momento culminante di questi rapporti fu il 1783 quando regnava Caterina II, gli accordi erano abbastanza presi, sarebbe dovuto arrivare l'esercito russo a liberare l'Armenia a una parte di Armenia, i melic armeni avrebbero aiutato l'esercito russo a combattere contro i turchi e i persiani e sul regno d'Armenia sarebbe dovuto salire il principe Pozjomkin, che forse avrete sentito nominare quello della leggendaria corazzata Pozjomkin. Vi segnalo che i giovani non vedono più quel film, quindi non si può più fare la battuta sulla corazzata Pozjomkin perché i ventenni non guardano più Fantozzi, quindi è un pezzo della loro cultura, ahimè, sgretolata, non si possono più fare battute sulla corazzata Pozjomkin. Pozjomkin che è stato un grande uomo politico della Russia nella seconda metà del 1700, per un paio di decenni ha avuto un ruolo fondamentale, è stato per molti anni l'amante principale di Caterina II, che però si era stufata di lui e aveva pensato di liquidarlo facendolo diventare re d'Armenia, quindi questo è abbastanza divertente. In realtà poi la spedizione non ci fu, o meglio cominciò, ma i russi furono fermati nel nord del Caucasus per andare in Armenia, bisogna attraversare il Caucasus, ma nel Caucasus settentrionale vivevano le bellicosissime popolazioni cecene e circasse che opposero in quanto musulmani, ma soprattutto montanari, una resistenza eroica. Pensate che i russi per sconfiggere i caucasi ci hanno impiegato 81 anni del 1783 al 1864. Quindi l'esercito russo non poteva nel 1783 liberare l'Armenia o provare a liberare l'Armenia, Patsyomukhin non diventò re d'Armenia, morì qualche anno dopo e non se ne fece più nulla di questo regno d'Armenia vassallo della Russia. I russi però nel 1800 conquistano, cominciano a conquistare il Caucasus meridianale e occupano anche il territorio del Carabag che è situato qui, che non viene assolutamente costituito come una regione autonoma, è inserito il Carabag all'interno di unità amministrative, i governatorati che non facevano mai riferimento alla popolazione o alle popolazioni che ci vivevano. E non a caso, perché l'impero russo aveva al suo interno riferimento a 250 popolazioni e faceva di tutto per evitare separatismi e nazionalismi. Quindi quando conquistava una regione, poteva essere l'Armenia o la Georgia o la Polonia, non creava mai governatorati che si richiamassero al nome storico della popolazione. La Polonia, quel pezzo di Polonia conquistata dai russi, era il governatorato della Vistola, dal nome del fiume che ci piassava. Non esisteva il governatorato di Polonia, non solo, ma quando potevano, creavano regioni amministrative il più mescolate possibile etnicamente. Il divite et impera tipico degli imperi. Il Karabakh, che era prevalentemente armeno, viene immerso in una regione più vasta, prevalentemente turca. Badate che i turchi di quella regione ancora non erano chiamati azerbaijani. I russi li chiamavano tatari, tutte le popolazioni turche che avevano al loro interno. C'erano i tatari della Volga, i tatari del Caucaso, i tatari della Siberia, tutti i tatari. E questi turchi chiamavano se stessi turchi, semplicemente. Oppure turchi di Baku, turchi di Sheva, che non c'era ancora un'unica denominazione, perché mancava ancora agli attuali azerbaijani una identità nazionale. Avevano un'identità religiosa, erano musulmani, un'identità tribale, appartenevano a varie tribù o a vari canati, ma non un'identità nazionale. La situazione cambia sostanzialmente quando crolla l'impero russo, quando si forma l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, scusate se vi dico una banalità, ma per i miei studenti so che non si tratta di una banalità, ma di una novità assoluta. Russia, Impero Russo e Unione Sovietica non è la stessa cosa. È un'osservazione banale, ma se io anziché Aldo Ferrari mi chiamassi Muhammad Bin qualcosa, sarei un'altra persona evidentemente. Se l'Unione Sovietica non si chiamava Russia Sovietica, ma si chiamava Unione Sovietica e il nome Russia non c'era, c'era una ragione ben precisa. L'Unione Sovietica non era una Russia con un altro nome, era uno stato ideologico, marxista-leninista, fondato su una rivoluzione, quella bolshevica, guidata da rivoluzionari che in larghissima maggioranza non erano russi. Il leader principale, Lenin, può essere considerato russo, nel senso che aveva un quarto di sangue russo, uno tedesco, uno ebraico e uno mongolo, ma nel complesso credo debba essere considerato russo. Sicuramente non era ebreo, non era tedesco e non era mongolo. La somma di questi quattro quarti così diversi creava un russo sostanzialmente. Gli altri leader principali non erano russi. Stalin era giorgiano, Trotsky, Kaminev, Bukhar, Mzinov, Efes-Fyrdlov erano ebrei, Orjonikize, Beria come Stalin erano giorgiani, Mikoyan era armeno, Dzenzinski era polacco, etc. I russi etnici erano pochissimi nel gruppo dei primi bolshevichi. Il partito bolshevico era egemonizzato nei primi anni da rappresentanti di minoranze etniche. Questa cosa andrebbe detta così tranquillamente, senza nessuna censura, perché a parte che non è assurdo censurarlo, è un dato di fatto, quasi nessuno di questi leader era russo. Ma perché l'origine non russa di molti di questi bolshevichi ha dato loro un forte interesse per cambiare completamente la struttura dello stato che avevano abbattuto. L'impero russo era uno stato unitario, guidato da un imperatore, assistito da una nobiltà e moralmente, giuridicamente, guidato da una o più religioni. Il cristianesimo ortodosso, ma anche l'islam, l'ebraismo, il buddismo, erano tutti presenti e tutti abbastanza tollerati, benché il cristianesimo ortodosso fosse dominante. I bolshevichi erano comunisti, non russi e atei. Allora, eliminano chiaramente l'imperatore e la famiglia imperiale, la nobiltà, i cosacchi, perseguitano con equanime feroce tutte le religioni, senza nessun privilegio a nessuna, e costruiscono non uno stato unitario, ma una federazione. L'Unione Sovietica era una federazione che è arrivata ad avere 15 repubbliche federali, la Russia, l'Ucraina, i Baltici, il Casacchistano, etc., e al di sotto di queste 15 repubbliche federali con diritto teorico, ma costituzionale alla secessione, chiaramente nessuno ha mai fatto secessione perché si veniva fucilati per molto meno che provare a seccedere evidentemente, ma teoricamente era possibile, tant'è vero che quando l'URSS si risolve nel 91, queste 15 repubbliche che diventano stati indipendenti. Al di sotto delle 15 repubbliche, repubbliche federali, c'erano molte più numerose repubbliche autonome, regioni autonome e territori autonomi, quattro diversi gradi decrescenti di autonomia. Allora, queste autonomie non vanno assolutamente sottovalutate, perché è vero che tutto veniva ordinato a Mosca, ma poi gli ordini andavano eseguiti localmente e venivano eseguiti localmente da comunisti locali. Non c'erano russi che comandavano in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Casacchistan o Ucraina. I leader locali erano radicati nella popolazione della singola repubblica. A parte le 15 repubbliche federali, anche quelle meno autonome, cioè le repubbliche autonome, le regioni autonome, i territori autonomi, avevano delle autonomie discrete a livello amministrativo, a livello linguistico. Accanto al russo si insegnava anche in Armeno, in Azzero, per rimanere in queste regioni, in Giorgiano e così via. Sino all'università inclusa. Il russo era la lingua di tutti, ma la lingua di ognuna di queste repubbliche aveva status di insegnamento tra elementari, sino all'università per le 15 repubbliche federali, poi man mano che si scendeva come autonomia, più breve era il corso di lingua delle singole repubbliche. È chiaro il concetto? Comunque se voi pensate al nostro Trentino Alto Adige, all'Alto Adige naturalmente è qualcosa di abbastanza simile. Non indipendenza, autonomia territoriale, amministrativa, linguistica, entro certi limiti. Naturalmente andava tutto fatto, come dice Amos, ma lo si faceva in Armeno, in Giorgiano, in Turco Aseri e così via. e i vertici erano locali. L'Unione Sovietica si è strutturata seguendo o cercando di seguire le linee etniche delle 250 popolazioni che vivevano all'interno del territorio dell'URSS. È stata la politica sovietica delle nazionalità negli anni 20, un'impresa titanica. Mosca mise in azione eserciti di geografi, antropologi, linguisti, economisti, per cercare di disegnare confini equi, storicamente, geograficamente, economicamente. e badate, le scelte che sono state fatte negli anni 20, dello scorso secolo, sono state decisive. Se oggi c'è un conflitto tra Russia e Ucraina, vi faccio l'esempio più plateale, questo è in larga misura una conseguenza delle scelte che sono state fatte dai sovietici negli anni 20. L'Ucraina non era mai esistita prima degli anni 20. Sono stati i bolshevichi, come in questo caso giustamente ha detto Putin, a decidere che l'Ucraina dovesse esistere, ed esistere con lo status più alto di Repubblica federale, avrebbe potuto esistere come Repubblica autonoma all'interno della Russia, vista la vicinanza linguistica e culturale tra Russia e Ucraina. Lo stesso discorso si può fare per la Bielorussia. Invece i rivoluzionari bolshevichi decisero diversamente. Se la vogliamo interpretare in maniera positiva, possiamo dire che decisero di riconoscere che Ucraina e Bielorussi, pur essendo simili ai russi, ne erano distinti e quindi avevano diritto ad un'autonomia territoriale e amministrativa. Se la vogliamo leggere in maniera negativa, negativa almeno nell'ottica di Mosca, i bolshevichi, non essendo russi, avevano interesse a dividere i russi il più possibile per evitare, come diceva Lenin, lo sciovinismo grande russo, cioè che la nuova formazione comunista sovietica fosse dominata dai russi. Suddividendoli linguisticamente e amministrativamente si pensava di ridurne il peso. Queste sono due possibili spiegazioni di questa politica nazionale. Si può scegliere l'una spiegazione o l'altra, o una via intermedia. Vi prospetto le diverse possibili spiegazioni. Nel caucoso meridionale, dove c'era una mostruosa complessità etnica, voi non capirete nulla in questa carta etnica. Faccio fatica a capirla io che studio queste regioni da 30 anni. Queste macchie di colore corrispondono all'insediamento delle principali popolazioni, cioè una quarantina di popolazioni, non sono proprio segnate ma elencate in questa tabella in alto. Per non frastagliare troppo cromaticamente la cartina, le popolazioni più piccole sono elencate sopra. Quelle maggiori, le 8-10 maggiori, sono invece indicate a colori. Ma vedete che quasi dappertutto sono macchia di leopardo. Perché in epoca premoderna non ci si badava molto alla lingua, all'etnia. Faccio un esempio. Questa macchia sono i kurdi, nomadi, ai quali non importava nulla se non seguire le mandri al pascolo. Si insediavano dove era conveniente. Nella città principale del caucoso meridionale, Tbilisi, che in russo o in armenio si chiama Tiflis, quando i russi la conquistarono nel 1800, gli armeni erano il 75% della popolazione. Perché i georgiani, e Tiflis è la capitale storica della Georgia, i georgiani erano solo nobili o contadini servi della gleba, che non abitavano in città. I mesteri li facevano gli armeni, che erano sì nobili, ma anche mercanti e artigiani. Nelle città vivevano armeni, greci ed ebrei. E queste dinamiche socio-culturali erano presenti in tutto il caucoso. Quando i sovieti decisero di voler suddividere i fare delle frontiere, avevano di fronte a sé una missione quasi impossibile. Non impossibile, ma fecero delle scelte ampiamente discutibili. Probabilmente fecero delle scelte sbagliate. Quella del Carabag è stata sicuramente una scelta sbagliata. Ma anche se sbagliata, ora vi spiego perché fu sbagliata, aveva una sua logica. Allora, tra armeni e azeri c'erano tre regioni contestate. Ve le faccio vedere. Una era il Carabag, una era il Nahichevan, che vedete qui, vediamo se si vede meglio in un'altra cartina. Il Nahichevan è questa piccola regione qui senza nome tra l'Armenia e l'Iran. È una regione storicamente armena, anche il nome armeno, ma in questi anni, primi anni venti, gli azeri erano circa il 60% della popolazione. Questa regione che si chiama Zangezur, a sud dell'Armenia, al confine con l'Iraq, era mista armeno a zera, 80% di armeni e 20% di azeri. Questa del Carabag aveva il 90% di armeni e il 10% di azeri. Allora, logica avrebbe voluto che, come il Nahichevan, che aveva una maggioranza del 90%, quindi ancora più consistente, andasse all'Armenia. Invece all'Armenia fu dato soltanto lo Zangezur, soltanto questa regione che tra l'altro divideva l'Azerbejana dal Nahichevan, che faceva parte dell'Azerbejana. Faceva parte, ma siamo in Unione Sovietica comunque. Cioè queste repubbliche avevano un'autonomia, ma non un'indipendenza. Quindi quando diciamo che il Nahichevan è stato dato all'Azerbejana, vuol dire che questo territorio ricevette lo status di repubblica autonoma all'interno della Repubblica federale dell'Azerbejana, che era all'interno dell'Unione Sovietica. Il che vuol dire che a Mosca comandava prima l'Azerbejana, che ordinava e in Azerbejana si obbediva, o in Armenia si obbediva. Però gli armeni, il 40% nel Nahichevan se ne andarono tutti, non perché fossero perseguitati dagli Azeri. Ma siccome lo status di Repubblica autonoma dava diritto a usare, oltre al russo, la zero, il turco, agli armeni questo dava fastidio e si trasferirono progressivamente ma in massa nella vicina Armenia. Attualmente non c'è più neanche un armeno in quella regione, neanche uno. Se ne sono andati tutti gradualmente, fra gli anni 20 e gli anni 80. Perché comunque stare in una regione dominata dei Turchi e Azeri con i quali gli armeni non hanno simpatia era spiacevole e pacificamente se ne sono andati. Siccome stiamo parlando di Karabag, perché Mosca decise questa regione raccontesa tra armeni e Azeri, c'erano state anche guerre, scontri nel 1905, nel 1920, massacri locali nell'ordine 5-10 mila persone, però non è poco, stiamo parlando di regioni con 100 mila abitanti, 5-10 mila morti, non è poco. Mosca doveva fare da pacere. Scelse di dare questa regione all'Azerbejana. perché fece questa scelta? Sbagliata dal punto di vista degli armeni, come siamo al 90% perché dobbiamo stare dentro l'Azerbejana. Allora, dal punto di vista degli armeni era sbagliata, ma il punto di vista dominante era quello di Mosca, però badate, non dei russi. perché chi dominava Mosca, al di là del fatto che Stalin fosse georgiano e comunque non russo, e fu Stalin a decidere nel 1923 che questa regione sarebbe stata parte dell'Azerbejana e non dell'Armenia, dominava una visione politica più vasta, dominava l'interesse statale. Staline decise di attribuire agli Azeri questa regione contesa con gli armeni perché si fidava degli armeni molto più che degli Azeri. Sembra strana, invece no, aveva senso, perché gli armeni erano già filo-sovietici. L'Unione Sovietica non doveva conquistarsi la fedeltà degli armeni, tra i quali c'erano molti più comunisti, e che erano stati salvati dall'Armata Rossa, non russa, nel 1920, quando i turchi stavano finendo il lavoro del genocidio nel 1915. L'Armata Rossa arrivò per sovietizzare e comunistizzare quel territorio, ma respinse l'esercito turco. Quindi agli armeni, ve lo ricordate, visto che non siamo tanto giovani, il vecchio detto meglio russi che morti, per gli armeni era un detto perfetto, meglio rossi che morti. Gli Azeri, invece, non avevano comunisti, era una popolazione agraria con limitatissimo sviluppo politico, erano sostanzialmente anticomunisti, allora Mosca pensò di ingraziarseli concedendo loro la regione contesa. Anche perché tenete presente che in quegli stessi anni l'impero ottomano stava crollando e stava nascendo la Repubblica Turca. Ed era una Repubblica che nasceva su base anticoloniale, antiimperiale. C'era la speranza a Mosca che Kemal Ataturk aderisse al comunismo. Quindi, sfavorire gli armeni e favorire gli Azeri che sono turchi, sembrò una mossa furba, strategicamente. Poi, Kemal Ataturk, sappiamo, non divenne comunista, mandò avanti la batteria quasi scarica. Mandò avanti una politica nazionalista. Ma quindi, per spiegarvi l'apparente incoerenza di un'Unione Sovietica che crea confini su base etnica, li rispetta in alcuni casi e non in altri, vi posso dire che quando a Mosca si prendevano delle decisioni, c'erano tante possibili motivazioni e gli armeni ne hanno subito le conseguenze. Non c'era da parte di Stalin, non c'era da parte dell'Unione Sovietica nessun pregiudizio sfavorevole nei confronti degli armeni. Ma la ragion di stato sovietica fece prendere questa decisione, che una volta presa non poteva più essere cambiata. Gli armeni ne furono molto scontenti, ma vi ripeto, si era fucilati per molto meno che per protestare riguardo a una decisione presa dal politiburro. Quindi gli armeni per 60 anni rimangono scontenti di questo inserimento all'interno dell'Azerbejano, ma si era comunque all'interno dell'Unione Sovietica, non si dipendeva direttamente e completamente da Baku, ma piuttosto tutti insieme da Mosca. Ciò nonostante, la maggioranza armenia dal 90% degli anni 20 alla fine del periodo sovietico 1989 si era ridotta al 73-75%, perché comunque anche gli armeni del Karavag preferivano andare a vivere nella vicina Armenia, per non dover comunque avere a che fare con gli azeri. Non c'era amore tra queste due popolazioni, diciamo così eufemisticamente. La situazione cambia radicalmente, io poi non so quanto tempo ho a disposizione, posso parlare? Non abbiamo fretta, scusate, forse l'ho presa un po' lunga, ma visto che mi avete chiamato a parlare di questo tema, ve ne parlo dando numerose informazioni, spero comprensibili. Negli anni 60 succede qualcosa di importante, comunque lo si voglia valutare. Va al potere, come segretario generale del Partito Comunista, Garbaciov. Garbaciov lo possiamo valutare come vogliamo, ma il suo ruolo nella vicenda del Karavag è stato fondamentale, perché quando lui mise in moto quei due cambiamenti epocali che chiamiamo pierestroika, che vuol dire ristrutturazione, e glasnost, che noi traducevamo erroneamente trasparenza, non vuol dire trasparenza, vuol dire libertà di parola, la libertà di parola consente trasparenza, però la traduzione è sbagliata, glasnost viene da golos, vuol dire voce, la possibilità di parlare senza essere fucilati sostanzialmente, o di scrivere senza essere deportati. Gli armeni del Karavag cominciano quasi subito a chiedere quello che prima non avevano il coraggio di chiedere, cioè che il Karavag si staccasse dall'Azerbegiana e entrasse a far parte della Repubblica armena. Questo avviene nel 1988. Garbaciov risponde no. Risponde no perché ce l'ha con gli armeni? No, di nuovo assolutamente no. Il problema è che di situazioni simili a quella del Karavag ce ne erano decine in Unione Sovietica, cioè decine di situazioni nelle quali le popolazioni locali non gradivano la sistemazione che era stata data negli anni 20. Se le ragioni degli armeni fossero state riconosciute sarebbe partito un effetto domino che avrebbe creato tanti altri scenari di quel tipo, incluso il più grave di tutti, la Crimea, che nel 1954, come saprete perché è da un anno e mezzo che se ne parla, era stata stranamente concessa da Khrushchev all'Ucraina staccandola dalla Russia. Però tutto in un contesto sovietico, quindi questi cambiamenti contavano fino a un certo punto. però Gherbaciov valutò che non fosse opportuno accontentare gli armeni, non perché avessero torto, ma perché se avesse ceduto le richieste armeni tante altre popolazioni avrebbero fatto richieste analoghe e temeva di non riuscire più a gestirla. Decisione giusta, sbagliata, forse sbagliata possiamo dire, ma motivata. Sbagliata lo possiamo dire a posteriori perché immediatamente cominciano scontri tra armeni e azeri perché ormai l'URSS non reprimeva quasi più. Quindi volarono prima parole grosse, poi bastonate e poi fucilate. Ancora in epoca sovietica ci furono almeno due massacri consistenti di armeni da parte degli azerbegiani, uno nella città di Sumgait che si trova vicino Baku, vedete qui? Stiamo parlando del febbraio 1988, un massacro, siccome si era ancora in epoca sovietica i numeri sono molto incerti, diciamo fra 100 e 200 persone, ufficialmente 53 ma sicuramente fra 100 e 200 persone. e un altro più grande nel gennaio 1990, scusate, a Baku capitale dell'Azerbegiana. Centinaia di morti ma i numeri sono non definiti, non li sapremo mai quelli ufficiali. A quel punto il massacro a Baku era così grave che l'esercito sovietico si era ancora in URSS, dovette intervenire e fece un massacro di azeri. Se voi andaste a Baku, magari in visita ufficiale, vi porterebbero subito a vedere la via dei martiri, cioè delle persone uccise dall'esercito sovietico nel gennaio 1990. Poi gli azeri non vi diranno che i sovietici intervennero per evitare che tutti gli armeni di Baku, circa 200.000 venissero uccisi dagli azeri, o perlomeno che il massacro degenerasse ulteriormente. Sta di fatto che ancora in epoca sovietica cominciano i massacri, dove inizialmente sicuramente le vittime erano più armeni che azeri, ma anche gli armeni, qualche massacro più piccolo, unità non decine, non centinaia, in alcuni villaggi li hanno compiuti, gli armeni non sono santi, non vanno mitizzati, idealizzati. Erano però meno preparati, meno attrezzati ai massacri e che avvennero quasi tutti all'interno dell'Azerbejano. Quando nel 1991 crolla l'Unione Sovietica, e non vi sto a dire perché, per come ne avrete sentito parlare, il problema del Karavag si aggrava, perché adesso ci sono due stati indipendenti, perché prima l'Armenia e la Repubblica dell'Azerbejano non erano indipendenti, ma facevano parte dell'URSS, quindi avevano almeno teoricamente un attore terzo al quale rivolgersi, infatti gli armeni si rivolsero a Mosca, a Garbaciov, senza soddisfazione, ma a quel punto non c'era più l'Unione Sovietica. Quindi il conflitto che era stato relativamente contenuto diventa guerra aperta. La guerra, la prima guerra armeno-azera, scoppia nel gennaio 1992 e guerra aperta. Gli armeni erano 3 milioni e mezzo, gli azeri 8 milioni e mezzo, ma la guerra fu vinta dagli armeni, che riuscirono, vedete questo è il Karavag tratteggiato. Gli armeni del Karavag, che erano circa 150 mila su 180 mila abitanti, 30 mila erano azeri, scacciarono barra uccisero tutti gli azeri della regione, purificandoli etnicamente. In più conquistarono anche 7 distretti, questi che vedete indicati in rosa intorno, che erano abitati solamente da azeri che furono a loro volta scacciati. Così come gli azeri che vivevano a Yerevan e in alcuni altri luoghi, soprattutto vicino al lago di Sevan, furono tutti costretti alla fuga. tutti gli armeni che vivevano in Azerbejano furono scacciati parallelamente. Cioè ci furono da una parte all'altra polizie etniche incrociate. numero di vittime difficile da stabilire nell'ordine delle centinaia, non dovrebbero essere più alte le vittime, ma il numero degli sfollati dovrebbe essere di 400 mila per gli armeni e 7-800 mila, sino a un milione, ma questa stima a zero è troppo alta, dall'altra parte. Quindi scambi di popolazione, scambi forzosi, cioè bisogna scappare prima di essere uccisi, sono stati pesanti. Sta di fatto che la prima guerra del Karabag viene vinta dagli armeni. perché vincono gli armeni? Per tre ragioni. Erano paesi entrambi in crisi, come tutta l'Unione Sovietica è stata dopo il crollo del lusso, tutti i paesi sono andati in crisi, il sistema è saltato. il sistema sovietico non era certo perfetto, era uno stato a lungo repressivo e sempre inefficiente, ma comunque c'era una struttura comune. Quando si sfalda nascono nuovi stati, nuove frontiere, scoppiano conflitti, l'economia salta per aria. Gli anni 90 sono stati un disastro per tutta l'ex URSS. tutto sommato l'Armenia era un po' meno in crisi dell'Azerbegiano e comunque gli armeni giocavano in casa, a casa loro, è un territorio di montagna, si difendevano stando in alto e sono riusciti a vincere. anche perché la Russia ha fornito più armi agli armeni che all'Azerbegiano, perché l'Armenia ha subito detto di voler rimanere legata a Mosca, in primo luogo per esserne sostenuta contro lo stato turco, che è qui alla frontiera dell'Armenia, erede di quell'impero ottomano che ha compiuto il genocidio nel 1915 non l'ha mai riconosciuto. I soldati russi sono sempre rimasti, non se ne sono mai andati dalle basi sovietiche, che in epoca di guerra fredda difendevano l'URSS dalla NATO, perché la Turchia era e è parte della NATO. Quelle basi russe sono rimaste lì e quindi gli armeni hanno subito e detto a Mosca noi stiamo con voi. Gli azeri erano più incerti, non sapevano dove andare e quindi Mosca, pur nella confusione di quegli anni, ha dato più armi all'Armenia che non all'Azerbegiano. Sommando queste tre ragioni possiamo spiegare la vittoria armenia nella prima guerra del Caravano. Cosa succede? Gli armeni creano, non si uniscono all'Armenia, alla Repubblica d'Armenia, creano una Repubblica indipendente chiamata di Arzakh, quindi non di Nagorno-Karabakh, ma di Arzakh, col nome storico, quello della prima cartina che vi ho fatto vedere, che non viene riconosciuto da nessuno, ma si organizza come statualità indipendente. Questa situazione è durata nel 1994 al settembre del 2020. Allora, la questione è molto complicata. Dal punto di vista del diritto internazionale, cozzano due principi. Gli armeni hanno dalla loro parte il diritto dei popoli all'autodeterminazione. L'Azerbegiano ha dalla sua parte il diritto degli stati all'integrità territoriale. Sono due principi e interambi vigenti nel diritto internazionale, ma, e questo è il punto, uno dei due conta più dell'altro. Quale dei due, secondo voi, conta di più? Sapete, quando si va in giudizio, sia tra stati che tra singoli, c'è sempre l'avvocato che tira fuori l'articolo per una delle due parti, poi però il giudice soppesa e fa valere l'articolo che conta di più. Io posso immaginare che molti di voi e tutti noi abbiamo simpatia per qualche autonomismo. Per qualcuno sì, per altri no. Funziona sempre così. E poi, se siamo onesti, ci rendiamo conto che a volte le nostre simpatie sono un po' arbitrarie. E' vero, o mi sbaglio? Io per primo ho simpatia per alcune di queste, per altre no, le detesto. E quindi è giusto, al di là delle mie o delle nostre simpatie, che il diritto internazionale privilegi il diritto all'integrità territoriale. Parliamoci chiaro, non so che posizioni aveste. Io sono meridionale, sono avruzzese. Quando vivevo negli anni 90 a Milano e si parlava di Padania, a me dava molto fastidio evidentemente. Non volevo essere staccato dai miei terroni, anche se poi ci torno solo in vacanza giù in Avruzzo. Però capite che se ognuno è libero di proclamare la propria indipendenza a livello internazionale è un disastro. Tant'è vero che il diritto internazionale ha anche detto ai catalani, tutto il mondo tifa per i catalani contro i cattivissimi spagnoli macisti e post-franchisti, però anche ai catalani libero al democratico è stato detto scusate ma non si può fare, perché dal punto di vista del diritto internazionale ha ragione Madrid e non Barcellona. Lo stesso discorso è stato fatto tante volte ai baschi, ai corsi, agli ungheresi di Transilvania, ai kosovari no, ma quella è un'altra questione, perché se i kosovari sono appoggiati dal padrone allora anche il diritto internazionale naturalmente può essere sviato, naturalmente, poi dipende quali sono gli sponsor. Comunque diciamo che la linea generale del diritto internazionale tende giustamente, io direi, a privilegiare l'integrità territoriale, però l'integrità territoriale deve essere realizzabile. Allora gli armeni si sono convinti, visto che in Karabag vincevano una guerra per la prima volta da quasi mille anni, di essere invincibili. si sono creati un mito di invincibilità militare che è durato per tanti anni, 16 anni, benché l'Armenia sia un paese piccolo, montuoso, senza risorse, senza sbocco al mare e con una popolazione nettamente inferiore. Erano 4 milioni nell'89, ora non sono più di 2 milioni e che facevano parte del complesso industriale sovietico, avere un impianto metalmeccanico chimico a 7 mila chilometri dal resto dell'industria diventava economicamente ingestibile. Se voi andate nell'Armenia del Nord, che è un paese di meravigliosa bellezza, vedrete decine e decine lineare di chilometri di fabbriche arrugginite. Una cosa terrificante. Una volta che c'è vento, cioè sempre, gira la ruggine a inquinare l'aria e i polmoni degli abitanti rimasti. Sono andati via quasi tutti perché se le fabbriche sono chiuse si va via. Poi l'Armenia da 4 milioni a 2 milioni e mezzo. L'Azerbaijan è ricchissimo di gas e di petrolio, che rivende con gasdotti, oleodotti, finanziati, potete immaginare da chi, che girano intorno all'Armenia, vanno in Turchia e arrivano in Europa. In 16 anni l'Azerbaijan si è arricchito moltissimo e ha cominciato a investire pesantemente in armi, al punto che ormai da una decina di anni la spesa militare di Baku superava e supera tutto il budget statale di Yerevan. La spesa militare supera tutta l'economia dell'Armenia, rendete conto del dislivello. Poi l'Azerbaijan ha usato molti dei suoi soldi anche per altre ragioni, in senso lato corruttive. Sta di fatto che gli armeni hanno sprecato 16 anni di sforzi diplomatici coordinati dal cosiddetto gruppo di Minsk, un gruppo di stati dei quali facevano parte Francia, Stati Uniti e Russia e altri a rotazione, per alcuni anni anche l'Italia, che avrebbero dovuto trovare un accomodamento tra i due paesi. Solo che gli armeni insistevano sul diritto all'autodeterminazione, gli azeri sull'integrità territoriale. Dal mio punto di vista gli armeni hanno commesso un errore politico gravissimo perché non hanno valutato il fatto che se negli anni 90 c'era un sostanziale equilibrio militare negli anni successivi loro sono rimasti fermi e gli azeri hanno compiuto una crescita economica, militare e politica in senso lato enorme. Cioè gli armeni avrebbero dovuto scambiare i territori occupati intorno al Nagorno-Karabakh vero e proprio con uno statuto di indipendenza o di amplissima autonomia sorvegliata da forze militari internazionali all'interno dell'Azerbeciano. Sono invece rimasti fermi sul loro sogno indipendentistico, con la simpatia di molti, anche mia personale, ma i sogni a volte non ce li si può permettere perché dal punto di vista geopolitico militare l'Azerbeciano era in crescita incessante, l'Armenia no. Inoltre il diritto internazionale premia e premia ancora l'Azerbeciano e non l'Armenia. Va detto che in tutti questi anni l'Armenia ha confidato sull'appoggio russo. L'Armenia fa parte della CSTO, vale a dire l'Alleanza Militare a Guida Russa, che determina il dovere degli stati, che ne fanno parte, ad appoggiare un altro che sia minacciato. Gli armeni hanno commesso un altro errore gravissimo, ma evidente, plateale. Il trattato di alleanza è tra la Russia e la Repubblica d'Armenia, che è uno stato riconosciuto internazionalmente, ma non tra la Russia e il Nagorno-Karabakh, la cui indipendenza era sedicente e non era riconosciuta dal diritto internazionale e neanche dalla Russia. La Russia non aveva obbligo ad intervenire a sostegno del Karabakh in caso di conflitto armato. 2016, primo scontro, la cosiddetta guerra d'aprile, 4-5 giorni, un piccolo scontro, ma per la prima volta gli azzeri sfondero. Niente di che, qualche collinetta conquistata. Però si vede nettamente che le armi nuove, buone, degli azzeri cominciano a funzionare. Gli armeni perdono qualche collinetta, nulla di grave. Avrebbe potuto e dovuto essere un campanello dell'arma e non è stato così. Nel 2018, altro cambiamento importante. L'Armenia, negli anni 90, è stata guidata per alcuni anni, caso pressoché unico a parte i baltici, da un presidente che non usciva dal partito comunista. Era un vero dissidente e per alcuni anni è stata una democrazia quasi funzionante. Elezioni vere, si vinceva, si perdeva. Nel 1997, il primo presidente, un uomo intelligente, voleva fare questo scambio, territori in cambio di sicurezza. Viene messo in minoranza, costretto a dimettersi, vana al potere un presidente più oltronzista, originario tra l'altro del Carabaglio, che rimane al potere sino al 2008, sostituito poi da un altro armeno del Carabaglio. Entrambi non propensi a nessuna forma di trattativa e inoltre, essendo l'uno e l'altro eroi di guerra, avevano vinto la guerra del 92-94, quindi eroi per tutto il popolo armeno, esaltato dalla prima vittoria dopo un millennio, questi due eroi di guerra, coraggiosi, combattenti, come politici, diciamo che sono un po' più ordinari, diciamo che hanno badato essenzialmente al proprio benessere personale e della loro clientela circostante. L'Armenia è rimasta una democrazia, ma svuotata, sapete, se chi ha il potere si prende tutta la ricchezza del paese e la stragrande maggioranza della popolazione è costretta a emigrare o a vivacchiare, l'insoddisfazione in Armenia era forte. Emerge all'improvviso nella primavera estate del 2018. Il Presidente cerca un colpo di mano, non avrebbe più potuto ricandidarsi esaluti due mandati e cambia la Costituzione, trasforma l'Armenia da Repubblica Presidenziale a Repubblica Parlamentare. A quel punto si candida come capo di partito per diventare premier in questa maniera. La popolazione armenia scende in campo perché non ne vuole più sapere. Nel giro di pochi mesi, in maniera confusa che non vi sto a raccontare, va al potere un giornalista di opposizione con un successo popolare e trionfale. Credo che avesse il sostegno dell'85% della popolazione. Immediatamente dice di voler lottare contro la corruzione. si precipita immediatamente a Mosca per rassicurare Putin che nulla cambierà nel collocamento internazionale dell'Armenia, cioè che l'Armenia rimarrà legata a Mosca. Ma Putin, che formalmente dice che è un affare interno dell'Armenia, noi non interveniamo, formalmente non interviene, ma non gradisce assolutamente la cosa che più detesta, cioè che vada al potere qualcuno dal basso, esautorando poi i suoi amici presidenti precedenti, uno dei quali tra l'altro era stato caliudista anche lui. Quindi c'è un non gradimento politico di Mosca nei confronti della nuova leadership, che inoltre si orienta chiaramente in senso filo-occidentale. E il gradimento di Mosca diminuisce col passare degli anni. I ministri sono tutti giovani, parlano inglese, hanno studiato all'estero, eppure non facendo strappi violenti, perché l'Armenia ha bisogno dei soldati russi alla frontiera con la Turchia e ha bisogno nei confronti del sostegno russo, il sostegno di Mosca viene meno. Allora, quando, in un momento in cui l'Azerbegian è sicuro di essere sufficientemente forte dal punto di vista militare, perché si è riempita di armi in questi anni, e in particolare di un'arma che noi non conoscevamo ancora, non la conosceva quasi nessuno, i droni, che aveva comprato in enorme quantità dalla Turchia e da Israele, a quel punto, il 27 settembre del 2020, scatena un'offensiva violenta contro il Caravaggio. E in 44 giorni vince abbastanza facilmente la guerra. L'esercito armeno era numeroso, ben organizzato, combattivo, ma non ha combattuto, perché appena mettevano la testa fuori venivano fulminati dai droni, ai quali non erano in grado di rispondere militarmente. E' una guerra che, a differenza di quella attuale, si esvolta in maniera tecnologica. C'è una delle due parti più ricca, più numerosa, ma con una guerra convenzionale non avrebbero vinto. Erano ben asserragliati gli armeni, ma non riuscirono a uscire dalle caserne, dalle casamate, dalle trincee, non potevano levare gli aerei, non potevano muovere i carri armati, venivano fulminati dai droni, che sapete, poi costano anche poco, tra l'altro, quindi non è neanche una grande spesa, da parte di un paese è ricchissimo. Allora, e questo è il punto, la Russia non era tenuta a intervenire per sostenere il Caravaggio, perché dal punto di vista internazionale il Caravaggio appartiene all'Azerbaijano e non all'Armenia e non ha diritto all'indipendenza. Però la Russia avrebbe potuto fare altro, avrebbe potuto dissuadere l'Azerbaijana, del quale è evidentemente assai più potente e con il quale fa ottimi affari. Avrebbe potuto intervenire magari in un secondo momento, per esempio, vedete l'esito bellico? Non solo l'Azerbaijana conquista tutti i territori meridionali, ma anche il 40% circa del Nagorno-Caravaggio vero e proprio, quello abitato solo da Armeni. Gli Armeni stavano cedendo, altri due in un giorno sarebbero arrivati a Stepanakert, capitale del Caravaggio. Nel giro, si calcola, 3-4 giorni, gli Azeri avrebbero conquistato l'intero Caravaggio. Solo a quel punto Mosca interviene. Benché Yerevan chiedesse ogni giorno, angosciosamente, aiuto alla Russia. Guardate che ci sono ormai più Armeni in Russia che in Armenia. La Russia non intervenne. Non è dimostrabile, ma a mio giudizio, fermo restante, che non aveva obbligo giuridico di intervenire a sostegno del Caravaggio, che giuridicamente appartiene alla Zerbegiana. Avrebbe però potuto fare prima quello che ha fatto il 9 novembre. Se l'avesse fatto il 15 ottobre, tutta la parte armena, il Nagorno-Caravaggio, sarebbe stata ancora in mano agli Armeni. Mosca è intervenuta chirurgicamente nel momento in cui gli armeni avevano perduto. Quindi la lezione a Pashinyan, il leader armeno democratico e filo occidentale, era già stata data. Ma la Russia, intervenendo, è riuscita a far accettare, a imporre alle due parti che un suo contingente di peacekeeping, di interposizione, entrasse in Caravaggio, dove non c'erano mai state truppe russe. Quindi in questa maniera la Russia ottenne due risultati. Uno evidente, rafforzare il proprio peso nella regione. Uno meno evidente e non dichiarato, punire il giornalista retorico, democratico e filo occidentale che aveva osato scacciare gli uomini precedenti legati a Mosca e fare qualcosa dal basso che a Mosca non è gradito. Questa credo sia una descrizione corretta, o perlomeno è quello che io penso al riguardo. Poi naturalmente si può sbagliare, io insegno storia del caos da decenni, sono presidente, non vi sto elencare i titoli che essendo vecchio ho. Sono uno specialista della questione, ma la si può interpretare anche in maniera differente. Questa è la mia interpretazione. credo corretta. Altre spiegazioni ci sono, ma trascurrono alcuni elementi, trascurrono l'interesse di Mosca, per esempio. Sono retorici. La Russia sarebbe dovuta intervenire via. Perché non l'ha fatto? Non l'ha fatto perché non era a suo interesse farlo. L'Armenia è uno stato economicamente insignificante, l'Asebedjan no. L'Armenia è uno stato politicamente ormai infido per Mosca. Non ci si può fidare più degli armeni, non sono più i nostri fratelli minimi nel cago. E' gente che vuole rivolgersi agli Stati Uniti, alla Nato, all'Unione Europea. In questa maniera si spiega quello che apparentemente può sembrare un po' complicato. Sta di fatto che l'accordo di pace, poi se volete vi lascio la presentazione, queste sono le condizioni di pace dell'11 novembre 2020. Cessazione delle ostilità riconsegna da parte armenia non solo dei territori che già gli azzeri avevano conquistato, ma anche di questi che non erano stati occupati e che collegavano il Karabag all'Armenia. Accettazione di un corpo armato russo di interposizione e, punto delicatissimo, diritto degli azzeri di avere un corridoio di trasporto tra l'Azerbegiana e la regione, la Repubblica Autonoma dell'Azerbegiana che fa parte dell'Azerbegiana. Per raggiungere l'Azerbegiana gli azzeri dovevano o ricorrere a punti aerei o passare per l'Iran. L'accordo impegna gli armeni a consentire un diritto di transito poco chiaro, quello di diritto di transito. Una strada controllata da chi? Il territorio, questo corridoio farà parte ancora dell'Armenia o dell'Azerbegiana? Punti non chiariti in questi nove articoli. Inoltre, nel novembre 2025 una delle due parti avrà il diritto, presumibilmente l'Azerbegiana, di chiedere il ritiro del contingente russo. Quindi probabilmente, se questo avvenisse, l'intera popolazione armenia abbandonerà di corsa il Karabag, non volendo vivere o morire sotto l'Azerbegiana. Come vedete, un quadro estremamente triste, soprattutto evidentemente per chi come me, ma si è libera di sentire, non direi tifa, ma condivide almeno in parte le aspettative degli armeni. In particolare, ritiene che gli armeni del Nagorno Karabag abbiano diritto a vivere nel loro territorio, almeno in uno statuto di autonomia che giuridicamente compete loro, appartiene loro. Fermo restante che, vi ripeto, gli armeni hanno compiuto degli errori gravissimi dal punto di vista politico. Gli errori si pagano sempre, però sapete, un errore compiuto dagli Stati Uniti, pazienza, hanno la forza per non pagarne dazi. Un errore compiuto dalla piccola, isolata e debole Armenia è imperdonabile. La storia non perdona il piccolo che commette errori di questo tipo. Tanto è vero che non è finita, noi quasi non lo sappiamo, ma approfittando della situazione di forza, l'esercito armenno è indebolito, demotivato. L'Armenia è spaccata politicamente, lo sciagurato Pashinyan è stato rieletto alle elezioni precedenti, nonostante tutto, ma il paese è spaccato a metà. C'è chi lo appoggia ancora perché è filo occidentale, democratico e lotta contro la corruzione o dice di farlo. C'è chi gli rimprovera la clamorosa sconfitta del 2020. L'Armenia è lacerata, lacerata. Per la prima volta, io organizzo viaggi, vado spesso, andavo in Russia, naturalmente non ci posso andare, andavo spesso in Armenia, per la prima volta non trovo persone che vogliono venire in Armenia perché c'è una demoralizzazione tremenda, c'è paura che l'Azerbaijan se la mangia. Si fa fatica qui ad andare lì, figurati quanto male stanno gli armeni, anche perché nel 2021-2022 gli azeri hanno attaccato numerose volte non più il Karabag, perché sostanzialmente non ne hanno più bisogno, ma il territorio dell'Armenia vero e proprio. Conquistando questi piccoli territori, circa 100 km quadrati, troverete nei dati fra 40 e 200 km quadrati, dipende un po', sono tutti cocuzzoli di montagna, quindi dipende da come si calcola la superficie occupata, sono piccoli territori, ma sono territori strategici perché controllano le strade sottostanti, sottostante. Ma soprattutto si è vista ancora una volta che l'esercito armenio non è in grado di resistere, anche a questi sconfonamenti limitati dell'Azerbaijan, e si è vista un'altra cosa, gravissima, avvenuta tra l'altro prima dell'invasione russa dell'Ucraina. La Russia non è intervenuta neanche a proteggere il territorio della Repubblica d'Armenia, internazionalmente riconosciuta e che è una sua alleata militare. La Russia ha tradito l'alleanza con l'Armenia, è venuta a meno, si limita a invitare le due parti a trovare un accordo. La Russia si è tirata fuori dai suoi obblighi di alleanza con l'Armenia. Perché l'ha fatta? I pochi informati dicono perché è impegnata in Ucraina. No, perché questi sconfinamenti sono avvenuti nel 2021 e 22 prima anche dell'invasione dell'Ucraina. La Russia si è tirata fuori ancora per punire l'Armenia di avere un governo non accettato a Mosca. A questo punto per Mosca non è più affidabile all'Armenia. Se anche perde altri territori è un problema armeno. Non avverrà, ma se andasse al potere un presidente armeno che invece non solo nelle parole ma nei fatti tornasse alle posizioni precedenti, presumibilmente, ma qui siamo sulle congetture, Mosca cambierebbe il suo atteggiamento. Siccome questo non è al momento prevedibile che ci sia un nuovo capo di governo filo russo anziché uno astrattamente filo occidentale, la situazione rimane a questo. vi segnalo che da dicembre 2022 sedicenti ecologisti azeri hanno bloccato l'unica strada che unisce unisce ancora l'Armenia al Caravaghe, è stata bloccata da questi sedicenti ecologisti. Caravaghe non vede riferimenti di cibo medicinali da dicembre 2022 e gli azeri contemporaneamente hanno tagliato in inverno le forniture di gas alla regione, che quindi è in una situazione di enorme difficoltà. La novità è che, e vedete quanto disperata è la posizione degli armeni, la speranza è l'Unione Europea, quindi capite che sono messi malissimi. L'Unione Europea ha inviato nei primi di marzo 2023 una missione naturalmente disarmata, sia ben chiaro, di circa 100 persone che però adesso al di là delle battute si sono interposte con la loro persona tra Armenia e Azerbeigiani, cioè se gli Azerbeigiani vogliono conquistare altri territori devono farlo col rischio di uccidere un membro di una missione europea. Quindi da questo punto di vista c'è un'utilità. Il problema è che questa missione pur per alcuni aspetti positiva, innanzitutto ha irritato ulteriormente Mosca evidentemente, perché non è che noi si abbia inviato uomini armati a proteggere gli armeni, si sono preinviati degli osservatori, quasi tutti ex militari o militari comunque senza armi e senza uniformi, il che comunque dà fastidio a Mosca e poi senza nessun progetto. È chiaro, siamo all'Europa, quindi non abbiamo in mente nulla al di là che parole umanitarie, perché a questo punto se l'Europa fosse politicamente, moralmente, militarmente capace di inviare una forza di interposizione per gli armeni del Karabag e dell'Armenia stessa sarebbe una mano santa. Ma naturalmente sinché ci sono soldati russi non è possibile, per ovvie ragioni, soprattutto nel contesto che si è creato con l'Ucraina. Quindi per riassumere, la situazione è veramente difficilissima, quasi disperata per l'Armenia. Io non vorrei esagerare, ma c'è il rischio concreto che l'Armenia cessi di esistere nei prossimi anni. Ve lo dico perché da specialista non posso non ricordarvi una cosa che sicuramente non sapete, perché avete tutto il diritto voi e altre persone, inclusi parlamentari con i quali ho parlato l'altro giorno all'audizione, avete tutto il diritto di ignorare il discorso pubblico dell'aserbegiano, che rifacendosi al fatto che oltre al canato di Karabag di cui vi ho parlato prima nel Settecento ne esistesse uno che si chiamava canato di Yerevan, che faceva parte dell'impero persiano, il cui governatore era persiano e non turco, il discorso pubblico dell'aserbegiano rivendica come territorio storico dell'aserbegiano tutta l'Armenia. E ci sono libri finanziati dall'Accademia delle Scienze dell'aserbegiano, dal Ministero degli Esteri, anche tradotti in italiano, in inglese e in russo, in cui si dice ci riprenderemo ciò che è il nostro tutto fino all'ultimo centimetro. Adesso naturalmente si può parlare di retorica, però è una retorica messa in atto da un paese stra-ricco, stra-potente militarmente rispetto all'Armenia e alleato della Turchia, altro Stato turco-musulmano che è l'erede del paese che ha compiuto il genocidio del 1915 e non l'ha ancora riconosciuto. Quindi il rischio della scomparsa totale dello Stato armeno è difficile da quantificare, ma esiste. così come esistono varianti più limitate, per esempio che l'aserbegiano decida un colpo di mano per occupare il cosiddetto corridoio meridionale, potrebbe farlo in sei ore ad occhio croce e croce e congiungersi così alla Repubblica Autonoma del Narchecevano. Ci sono fonti abbastanza affidabili che dicono che negli ultimi mesi dello scorso anno siano stati lì lì per farlo, ma che abbiano ricevuto da Washington e da Bruxelles forte indicazioni a lasciar perdere, perché nel momento in cui il discorso pubblico dell'Occidente è così finalizzato nella condanna di una invasione territoriale russa all'Ucraina, non sarebbe possibile far passare una chiara invasione dell'Armenia da parte dell'aserbegiano. Paese, pare che il tentativo quasi partito sia rientrato alcuni mesi fa, ma non è detto che non venga riproposto in futuro, ma più ancora pende la spada di Damocle di questo piccolo paese, ve lo faccio rivedere quanto è piccolo, schiacciato com'è tra la grande Turchia, 80 milioni di abitanti di quello che è il secondo esercito della Nato e un azerbegiano che galleggia su gas e sul petrolio. Vi ricordo che l'Italia ha ormai come primo fornitore di gas e di petrolio l'aserbegiano e l'atteggiamento del nostro paese verso l'aserbegiano lo conferma. Cosa dirvi? Avrei voluto raccontarvi una storia diversa e più allegra, non posso farlo, credo avervi dato un quadro utile, ancorché rattristante della situazione. Vi ringrazio e sono a disposizione per le vostre domande. Applausi Grazie 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 Grazie